Si chiamava Emily Smith, aveva solo 8 anni di età, dopo un anno di scuola, appena iniziata le vacanze, ha avuto una insensibilità al braccio che ha voluto manifestare apertamente ai amati genitori. E' stata portata al medico di famiglia, dopo 12 giorni la bambina è morta, per colpa di una forma piuttosto aggressiva ma anche incurabile di cancro. C'è stata una risonanza magnetica, è scoperto che aveva un tumore al cervello e Emily purtroppo non poteva essere operata dopo aprire la scansione, è andata direttamente in coma, poi è stata portata in sala operatoria a Cambridge, in Unito. Gli specialisti non hanno purtroppo dato alcuna forma di salvezza alla famiglia di Emily. Emily infatti non ce l'ha fatta, ci lascia solo 8 anni di età, la famiglia è distrutta, madre e padre non trovano pace alcuna, non si spiegano come possa che una bambina di 8 anni possa morire per un tumore al cervello. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Rimane dunque un volo insanziabile e incommabile per la famiglia di Emily Smith. Emily riposi in pace.